Il Vescovo della Diocesi Lucera Troia, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giuliano, ha espresso la volontà di riprendere la giornata del seminario, quale occasione per una preghiera più intensa e un aiuto più generoso al seminario Vescovile di Lucera. L'edificio del seminario ha subito un rallentamento di presenze a causa della pandemia, ma non per questo non necessita di necessari interventi logistici. La giornata ricorre il 23 maggio e ricorda la preghiera costante per le vocazioni al ministero sacerdotale e la necessità dell'aiuto che tutti sono tenuti a dare al seminario. Il Vescovo invita a vivere domenica 23 maggio, solennità di Pentecoste, la giornata del seminario e chiede un ottavario di preghiera nei giorni successivi fino al 31 di maggio. Inoltre Monsignor Giuseppe Giuliano ha comunicato una nuova nomine in diocesi, quella del nuovo parroco della parrocchia San Pio X in Lucera, nella persona del reverendo Don Rocco Coppolella, a decorrere dal prossimo 1 luglio.